In Europa circa un lavoratore su otto ha un lavoro a tempo determinato, quindi precario. L'Italia si colloca al sesto posto di questa speciale classifica, ma registra la tendenza peggiore tra i 27 Paesi nell'ultimo decennio. Il lavoro subordinato a tempo determinato è più frequente tra le persone giovani, tra chi ha un livello di istruzione più basso ed è più frequente tra le donne rispetto agli uomini, lo dicono i dati Eurostat su 2022. I lavoratori europei con un contratto a tempo determinato sono circa 24 milioni, il 12,1% degli occupati e il 14% di tutti i lavoratori dipendenti.